Voglio parlare di un problema che è molto legato a un fatto positivo. La nostra vita si è notevolmente allungata, lo sappiamo tutti, però c'è un problema che sta diventando sempre più, come posso dire, diffuso, che è quello della maculopatia. E tra l'altro il motivo per cui oggi ho voluto trattare questo tema è che le cure che sono fondamentali, che non vanno assolutamente trascurate, purtroppo con il Covid sono state dimenticate o comunque trascurate per paura di andare in uno studio medico. Ho in collegamento con me il professore Andrea Cusumano, che è docente di oftalmologia presso l'Università di Roma Tor Vergata. Professor Cusumano, è vero quello che sto dicendo? Purtroppo sì, la maculopatia, specialmente nella forma sudativa, deve essere trattata con continuità, con delle iniezioni intravitreali. Purtroppo la presenza del Covid ha allontanato i pazienti, sia per paura, sia perché molte strutture sono diventate ospedali Covid e hanno chiuso le sale operatori. Quindi abbiamo un problema doppio. E che succede adesso? Adesso abbiamo ripreso in parte l'attività, dobbiamo smaltire molto lavoro, ma purtroppo ricordiamoci che i pazienti, specialmente nel primo lockdown, sono stati veramente terrorizzati a casa. Io personalmente mi sono spostato in giro per tutta l'Italia per fare visite domiciliari, scoprendo dei pazienti urgenti che siamo riusciti poi a portare in canale nelle strutture universitarie ospedaliere, ancora aperte in quel periodo. Senta, so che esiste però un trattamento nuovo che forse può aiutare molto questo problema o mi sbaglio? È vero. Da qualche anno abbiamo a disposizione un laser a nanosecondi che è stato dimostrato con studi randomizzati, doppio cerco, che può ridurre la progressione della forma atrofica. La forma atrofica fino ad oggi veniva osservata, mentre veniva trattata quella essudativa. È un grande vantaggio perché si allarga lo spazio finestra, quindi il periodo in cui il paziente mantiene la visione, magari in prospettiva di attesa di nuove terapie che potranno essere magari più efficienti e anche risolvere in maniera maggiore un problema che rappresenta la prima causa di cecità legale nel mondo occidentale. È importante, quindi come credo sia importante, lei lo ricorda quando parliamo di questo argomento, comunque il rapporto con l'alimentazione, con l'attività fisica, con alcuni aiuti che possono essere la luteina, la vitamina C, me lo conferma questo? Assolutamente, vitamina C, vitamina E, beta carotene poi precursore della vitamina A, rame, zinco, luteina, zeoxantina, ma più che altro una cosa, attenzione, vigilate perché se avete un primo sintomo, una diminuzione della visione centrale, difficoltà nella lettura o ondulazione delle immagini, andate immediatamente dal vostro oculista al centro di riferimento perché magari dovete essere trattati immediatamente, è un po' come con l'infarto, se abbiamo un problema e lo trattiamo subito, riusciamo a salvare il paziente e in questo caso riusciamo a salvare la vista e a migliorare la qualità di vita del paziente. Grazie, grazie infinite professor Cusumano, come sempre questi sono, come posso dire, indizi molto e molto importanti da seguire. Grazie ancora al professor Cusumano. Grazie dell'ospitalità. Luteina e zeaxantina sono due potenti antiossidanti per la salute degli occhi, dove li troviamo in particolare nella famiglia dei cavoli, come nel cavolo verde, quindi nella verza, come possiamo utilizzarli in cucina? Perché è importante consumarli crudi e allora vi propongo un'insalatina di verza molto gustosa e appunto alleata della salute degli occhi. Tagliamo la verza a striscioline sottili e sottili, la sciacquiamo bene e la mettiamo da parte. A parte in un pentolino facciamo scaldare, solo scaldare senza portare a bollore, mi raccomando, giusto per un pochino di olio extravergine d'oliva, con un cucchiaio di aceto e due acciughine, che con il calore appunto rilasceranno tutto il loro sapore, il loro profumo. Spegniamo il fuoco, quindi ricordo di non far cuocere troppo quest'olio ma semplicemente scaldare e condiamo la nostra verza, la lasciamo riposare un pochino e dopodiché la serviamo a tavola. Non serve il sale perché già le acciughe sono saporite ed è buonissima ed è un'insalata alleata della salute degli occhi. Grazie a tutti!